Cominciate! Attenetevi strettamente al regolamento ufficiale concernente l'incontro nei box. Niente colpi basti, attenti a separarvi appena lo dico e niente pugni ai fianchi. Datevi la mano e al gong cominciate. Attenuto al malocchio, signor Sullivan, faccia la corna. Grazie a tutti! Forza, G! Forza! Attenuto al malocchio! 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 Grazie per la visione! Grazie a tutti.